Musica The Sims Un gioco semplicemente palloso A dire il meno Perché cos'è? E' un simulatore di vita Che te prendi il controllo di una famiglia Di una famiglia creata da te, dall'utente insomma Per prima cosa personalizzi le facce I vestiti, le aspirazioni e tutto Poi entri in gioco E ti tocca costruire la casa Ecco questo è l'unico aspetto bello del gioco Che si può definire bello Perché il livello di personalizzazione poi è parecchio alta E se è libero di costruirla un po' come ti pare Piscina e tutto Comunque Quando inizia il gioco vero e proprio Quando fai partire la vita virtuale di questi Sims Ecco che viene alla luce Lo schifo Io mi chiedo quale sia il divertimento Quale sia il gusto Di far fare queste attività A The Sims che sono cose virtuali Che è più divertente Cento volte farle nella vita reale Perché visto che non si tratta di un gioco di abilità Mi chiedo quale sia il divertimento Nel far sedere un vecchio sulla poltrona Di mandare il ragazzino a scuola Di far conversare du coglioni fra di loro Di disintasare un cesso merdoso Ma che divertimento c'è a fare queste cose Niente è zero È palloso Noioso e schifoso No io non capisco Un gioco che dovrebbe far divertire il giocatore Proprio du coglioni indescrivibili Eh si le fai chiacchierare Poi dopo un po' si innamorano Li fai fare la storia d'amore È tutto eh Ma che serve scusa Se la vuoi fare la storia d'amore La fai nella vita reale Tutte le attività che fai fare ai sims Sono inutili Non non ha Non c'è gusto Come fai? Come fai a trovare gusto? È noioso, palloso È come guardare il grande fratello Gente che fa i cazzi loro Se qualcuno si diverte così Veramente è messo male Perché Se nei sims No Si mettono a mangiare Dormire Chiacchierare fra di loro Sono tutte cose Che sono cento volte più divertenti Farle nella vita reale È inutile perderci tempo Ne queste cose virtuali Che non servono a niente Un videogioco Per essere bello Per avere un significato In sé No, capito? Deve avere una sfida Un inizio e una fine È come dire Allora, facciamoci una partita Quake Vai Una partita Se di sé Oh, una partita Unreal Tournament Vai, vediamo che vince Eh, questo è il gioco Il senso della sfida Il gioco, no? Ti stai giocando Sei attivo lì che giochi La sfida è in corso Non ste cazzate vergognose Vabbè Questa è la mia riflessione personale Sul gioco Ma passiamo ai fatti veri e propri Iniziamo con la grafica Suficiente Ma pesante Più del culo Di coloro che ci giocano Guarda Te, giro la visuale Che se non hai una scheda Da 256 MB Ti fa scatti E comincia a bestemmiare Come un mosconi Il sistema di controllo E le reazioni Sono state programmate Appoggiando il culo Sulla tastiera Quando te dai un comando Specifico a un sim Di eseguire una certa azione Lo fa dopo 5 minuti È incredibile Poi se vuoi annullare una certa azione Ci mette anche parecchio A levare la casella Dove c'è L'icona dell'azione in corso È tutto legnoso Ci vuol 30 anni Per far fare una cosa Che ne so Quando per esempio Prende fuoco la cucina Invece di chiamare Vici del fuoco Si stanno lì a ballare Intorno al fuoco Ci vuol 30 anni Per annullare quella cosa lì Ma è incredibile Scusa I programmatori Che hanno pensato Quando lo stavano programmando Che era bello in quel modo Per fare Ma schifo Poi un'altra cosa Quando parlano C'hanno una lingua strana Che problema C'hanno con le lingue normali Italiano Anche inglese Che cacchio c'è Perché devono parlare in burundi Senini Magora Vasira Marira Sempre così È palloso Perché veramente Uno pensa Vabbè facciamo così Se no Si mettono a ripetere le stesse frasi E chi se ne frega Meglio quelle Che è una lingua Che non si conosce Fa schifo così Guarda Io non so A chi può piacere A me la cosa proprio Mi sfugge L'idea di rendere Che ne so Un'atmosfera No Fa schifo e basta Fine Un altro problema Che mi sta proprio sulle palle Quando l'ho giocato Sono i bisogni Che ci hanno sempre qualcosa Tra un quadro Se non hanno sonno Hanno fame Se hanno fame Non hanno sonno E se sono studici Vuole un'altra cosa E tu coglioni così Perché veramente Io non so Io non riesco neanche A stare dietro un sim Figuriamoci una famiglia intera È incredibile Scoccano le 4 del pomeriggio Che vedi il sim Morto in terra dal sonno Vai nell'altra stanza Vedi uno che muore di fame Poi l'altro che studi Ciò che non si può far vedere Lo devi lavare Madonna che palle Ma posso capire a volte Ma sempre Un ciclo continuo Che vale poi Per tutti i membri Della famiglia Come fai a divertirti Da fare queste cose I compiti a casa Dei ragazzi Ci stanno lì quasi Una giornata intera A farle Poi per guadagnare i soldi Madonna Che due coglioni Nelle prime ore di gioco Veramente Non ci si può permettere Proprio un cazzo In casa Di sims Ti tocca lavorare Proprio giorni Giorni Che poi metà dei soldi Devi spendere Per da mangiare Eccetera È tutto Ora capisco Che volevano farlo Realistico Però dai È un gioco Non che uno si debba Rompere i coglioni Per comprare un televisore Scusa È un gioco Mi voglio divertire Perché mi devi Raspare le palle Con questi problemi Uno Non si dovrebbe Sentire costretto A usare il trucco Dei soldi Scusa Non è mica normale Uno che vuol giocare A The Sims Senza shit Senza trucchi Di niente Parte Che fa una famiglia E devi abitare In una casa Di 10 metri cubi Per minimo Un mese In termini di giorni Nel gioco Sicché I coglioni Non reggono Non mi sembra possibile Insomma È un gioco Che Non è divertente Non diverte In generale Da quanto ho visto Poi in internet È vero Che ne parlano sempre bene Di Sims Di Sims Però guarda Tutti coloro che conosco Li fa cacare Li fa schifo Magari l'avranno provato 2-3 giorni Ma Dopodiché Ne è secco Voglio dire Non è niente di che Al di là di tutto quello Che viene detto online Il gioco Fa schifo E per finire La recensione in bellezza Parliamo di prezzi Che sono La parte più spaventosa Del tutto Scandaloso La serie Sims 2 È composta Da Innumerevoli Espansioni Ognuna costa Più di 50 euro Quindi Se facciamo un conto Per Se volete giocare Di Sims Insieme a tutte le espansioni Spendereste Quasi 500 euro Su per giù Direi 500 Sì È un buon prezzo È uno che vuole giocare A un giochino Con tutti i contenuti 500 euro Che poi Ogni espansione Parecchio C'ha parecchi contenuti È tipo Di Sims Pads Aggiungere il cane E il gatto È che quello Sì vale Sicuramente 50 euro Ma anche 60 Capito Il cane e il gatto È È Due oggetti in più Ogni espansione Sì sì Un ottimo affare Guarda Vi raccomando Compratele tutte Tutte Ecco perché Ogni espansione C'ha È Io buono C'ha 6 pezzi nuovi 4, 5, 6 Pezzi nuovi Un affare Guarda imperdibile 50 euro All'una La compri? Ma va bene Ma come si fa Dico io La gente è nata Scemo a cosa? Io mi chiedo Come fa Maxis A vendere certe schifezze Io Io non avrei Il coraggio Di mettere certe scatole Ripiene di merda Di piccione Sugli scaffali È vergoglioso E la gente Che le compra Andrebbe sparata Picchiata È proprio Intollerabile Insulta All'intelligenza Media Del videogiocatore Ma Come fai Scusa Sono contenuti Spiccioli Schifosi Non valgono nulla Non aggiungono Quasi niente A gioco Li fanno pagare Così tanto Io l'altro giorno Sono sceso All'Auronics Ho guardato i prezzi Sono rimasto Con la mascella Spalancata Non è possibile Io quasi quasi Chiamavo Il responsabile E dicevo Ma che cazzo Ne metti a vendere Ste cose Ma che cazzo Ne metti Ste prezzi Andrebbe schiaffeggiato Proprio A raffica Capito L'unica cosa Che mantiene In piedi Questo cumulo Di immondizia Affetente Sono coloro Che comprano Questi giochi Queste espansioni Madonna Se mi capo Di vedere qualcuno Che lo compra Lo prendo a calci Guarda Al costo di andare In galera Conclusione Gioco Noioso Palloso Insignificante E vergognoso Da seppellire Da dimenticare Da ridicolizzare